Il treno alta velocità Frecciarossa 95-61, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanova, è diretto a Roma Termini, delle ore 8 e 11, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Bologna Centrale, alta velocità, Firenze, Santa Maria Novella, Roma Tiburtina. I livelli executive business sono in testa al treno, su questo treno è attivo il servizio di ristorazione. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a difforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno alta velocità Italo 99-00, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Roma Termini, è diretto a Torino-Portanova, delle ore 8 e 24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, Milano-Rogoredo, Milano Centrale, Torino-Portasusa. Carrozze dalla 8 alla 11 testa treno, dalla 5 alla 7 centro treno, dalla 1 alla 4 coda al treno. L'ambiente smart è in coda al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a difforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Annuncio ritardo. Il treno alta velocità Fraccia Rossa 95-93, di Trenitalia, proveniente da Bari Centrale, e diretto a Milano Centrale, delle ore 8 e 34, arriverà con un ritardo previsto di 20 minuti, diversamente da quanto già annunciato. Il treno alta velocità Fraccia Rossa 95-92, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Milano Centrale, delle ore 8 e 37, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. I livelli executive business sono in coda al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno alta velocità Fraccia Rossa 95-63, di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Salerno, delle ore 9 e 11, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Bologna Centrale, alta velocità, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Napoli Centrale. I livelli executive business sono in testa al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno alta velocità Italo 99-05, di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Salerno, delle ore 9 e 23, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Bologna Centrale, alta velocità, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Centrale. L'ambiente smart è in coda al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Attenzione! È vietato attraversare i binari. Servirsi del sottopassaggio. Il treno alta velocità Frecciarossa 95-66, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 9 e 44, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Milano Rogoredo, Milano Porta Garibaldi, Roffiera, Torino Porta Susa. I livelli executive business sono in testa al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Attenzione! Il treno in arrivo al binario 1, non fa servizio viaggiatori. Annuncio cancellazione treno. Il treno alta velocità Frecciarossa 95-67, di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Roma Termini, delle ore 9 e 44, oggi non è stato effettuato per un guasto al treno. Ci scusiamo per il disagio. Il treno alta velocità Italo, 99-09, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 10 e 23, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, alta velocità, Firenze-Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini. Carrozze dalla 1 alla 4 testa treno, dalla 5 alla 7 centro treno, dalla 8 alla 11 coda al treno. L'ambiente smart è in testa al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno alta velocità Italo, 99-02, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 10 e 24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano-Rogoredo, Milano Centrale, Torino-Porta Susa. Carrozze dalla 1 alla 4 testa al treno, dalla 4 alla 7 centro treno, dalla 8 alla 11 coda al treno. L'ambiente smart è in coda al treno. Per aggettare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disforsi lungo il marciachiede, in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor. consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo.